E così è proprio arrivato il momento per il valoroso principe Ivanto di intraprendere la sua eroica impresa verso la... Prego, Tata, non ora! Verso la montagna dell'Aquila, attraverso gli insidiosi Cinque Regni alla ricerca della leggendaria Fiuma d'Aro! Doro, 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 doro... Oh, è deliziosa, Bert! Nuova ricetta? Oh, l'hai notato, Sire! L'ho chiamata sorpresa di rapa! C'è una cosettina dentro! La adoro, Berti! Questa sorpresa di rapa si unirà alla mia lista di piatti preferiti a base di rapa che in ordine sparso sono rapa fritta, rapa bollita, rapa in camicia, rapa strapazzata, tè di rapa, latte di rapa, zuppa di rapa, rapa dritata, rapa scaglie, rapa dadini... Purè di rapa, Sire? Oh, certo che no, Berti! Quale conto farebbe un purè di rapa? Rape con contorno di purè, però... Delizioso! Succo di rapa, ragù di rapa... Oh, parlare di rapa mi ha fatto venire una fame! Ah, prova a immaginare, Berti! Quando porterò a casa la piuma d'oro, ci saranno statue di me dappertutto! E forse perfino una piccolina di te! È sicuramente da questa parte! Forse ci siamo persi! Assurdo, Berti! Se guardi l'angolo dell'ombra di quell'albero e lo confronti con la posizione della luna, allora... Sento un rombo lontano! Da questa parte... No, strata sbagliata! Nein, nein, nein! Grazie, Berti! È sicuramente da questa parte! Sparisci, bestialata! Oh, ma sei una piccola... Aiuto! Un altro nemico sconfitto, Berti! Bravo, Sire! Berti là! Andiamo, Berti! Ma sei certo che sia una buona idea? Un'idea principisca è sempre una buona idea! All'avventura! 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 Stroncato nel principesco fiore degli anni! Sento già la mia forza leggendaria che svanisce! Per favore, Sire, non devi fare sforzi! Oh, Berti! È peggio di quanto pensassi! Sono l'ombra del cerbo che ero! Davide! Ah, Berti! Il mio pancino reale sta brontolando! E sta brontolando per un... Secondo la mappa, abbiamo sbagliato in modo impressionante! Quindi non perdiamo tempo, Berti! Perché è qui che inizia il nostro viaggio alla montagna dell'Aquila! In mission! All'avventura! 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 Grazie a tutti